Siamo ora con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Che è evocato in molte famiglie italiane in questi giorni. Buonasera, signor Ministro. Il Ministro Bianchi, buonasera Ministro dell'Istruzione, grazie per essere con noi. Allora, la scuola... Buonasera, buonasera a tutti voi, eccomi qua. La scuola ha riaperto, grazie Ministro. Io avevo premesso il Ministro, guardi, Ministro, abbiamo bisogno di domande e di risposte pratiche, proprio concrete, perché la scuola ha riaperto, non si può che esserne contenti tutti, perché evidentemente per tutti gli ovvi motivi che ne conseguono, però ci sono dei problemi pratici. Per esempio, i protocolli di sicurezza del Ministero prevedono i controlli successivi, cioè che cosa accade una volta che si scopre un positivo, ma è molto complicato invece avere controlli preventivi, cioè test, per esempio, salivari in tutte le scuole, test per far sì che non vadano dei positivi nelle classi. Ecco, tutto ciò è impossibile, Ministro? Innanzitutto mi si permetta di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo per la scuola. Io voglio ringraziare veramente tutti, voglio ringraziare tutte le famiglie, voglio ringraziare i ragazzi, voglio ringraziare tutto il personale della scuola e tutti i dirigenti. Guardate che è stato, come in aprile e come in settembre, un grandissimo lavoro corale. Certo, abbiamo dei problemi pratici, sono diversi tra l'altro nelle diverse parti del paese, perché non dimentichiamoci che quando parliamo di scuola italiana parliamo di oltre 10 milioni di persone. Cioè la popolazione della Svezia. Per farvi un'idea. La Svezia ha 8 milioni e 700 mila abitanti, giusto per dire di cosa stiamo parlando. Certo, non è sempre. Sì, siamo più grandi della Svezia e più grandi della Svizzera. Però, allora, tutto questo, no, ci sono molti problemi e li stiamo affrontando uno alla volta. Uno alla volta, e lo abbiamo affrontato mettendo a disposizione delle risorse, abbiamo messo a disposizione, ad esempio, del generale Figliuolo, del commissario, che voglio ringraziare in maniera particolare, abbiamo messo a disposizione oltre 92 milioni per poter fare i test ai ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo messo a disposizione una quantità di risorse notevoli per permettere alle scuole di potersi organizzare nella diversità della loro condizione. e abbiamo, dall'altra parte, messo insieme anche, anche ascoltando tutti, anche ascoltando le regioni, dei protocolli che sicuramente possono essere migliorati. Però, ancora una volta, con l'aiuto di tutti. Vale il principio che abbiamo detto prima, dottor Fazio. Questo è un momento delicato. O si affronta con il massimo dell'unione, della convergenza, o altrimenti ci dobbiamo dividere su tutto. E se ci dividiamo su tutto non si va da nessuna parte. Quante classi sono in quarantena? Lei sa che l'Associazione Nazionale dei Presidi parlava di 200 mila classi in DAD entro pochi giorni. È un numero enorme, ma secondo lei è eccessivo? E quali sono invece le sue proiezioni? No, no, è un numero eccessivo. Un numero eccessivo anche perché la previsione del Presidente di questa associazione diceva 200 mila classi, ancora una volta ragionando sempre come al solito, o tutti a casa o tutti in classe. Invece abbiamo visto che abbiamo anche delle articolazioni diverse. Nelle diverse parti del Paese si stanno anche gestendo in maniera diversa, con molto buon senso le situazioni. Abbiamo e stiamo sperimentando in molte situazioni quella cosa che sembrava impossibile, cioè coloro che sono già stati vaccinati rimangono in classe e gli altri semplicemente stanno facendo una quarantena o una verifica. Le quarantene insieme con la sanità e con la sanità regionale le stiamo controllando. Mi sembra che tutto sommato a fine di questa settimana il dato importante è evidente a tutti. La scuola ha riaperto, ha riaperto con molti problemi, ha riaperto con molte situazioni differenziate, ma ha riaperto. E questo mi sembra il punto evidente a tutti. Ministro, io devo chiedere scusa perché ho la pubblicità. Se lei cortesemente ci aspetta, riprendiamo la conversazione fra pochi minuti, così parliamo di mense, areazione, mascherine, insomma di cose che riguardano le famiglie. Prego, pubblicità. Grazie Ministro. Nuovo Kia Sportage, l'ispirazione senza limiti. Scoprilo in concessionaria e su Kia.com. Kia, movement that inspires. I buchi neri, il bosone di X, una passeggiata nel cosmo, una biblioteca di preziosi volumi per esplorare l'universo e i suoi segreti. Primo volume, la materia oscura, solo 1,99 euro. Per un aiuto mirato contro il bruciore, puoi provare il nuovo Biochetasi Reflusso. Facile da deglutire, da sollievo dal bruciore e protegge l'esofago, anche di notte. Biochetasi Reflusso, pronto ad aiutarti quando serve. Biochetasi Reflusso. Abbiamo una nuova energia, nata per guidare il cambiamento. Così carica da accendere una rivoluzione. A zero emissioni. In sintonia con il mondo. È l'elettrico, vivilo adesso. Gamma electric e plug-in hybrid Peugeot. Zero rate per un anno e un anno di ricariche illimitate. Buonasera e benvenuto al McDrive. Come posso aiutarla? Amore. Non ci amiciamo anche oggi? Anche a 9.000 km di distanza. Scopri il gusto di vivere fino in fondo i momenti che ami. Comodo, sicuro. McDrive. Chiudi, butta, apri, fai scattare la scintilla. Se non sai che fare per levarti dall'impaccio. Scegli la salsa Mutti e vai a braccio. Prova le salse pronte Mutti. La base perfetta per ogni tuo gusto. Kimbo. Una tazza di crema. Una tazza di Napoli. Cialde Compostabili Kimbo Formula Bar. Provale con la nuova macchina. Stai cercando un prodotto davvero efficace contro le macchie? Nuovo Nivea Luminos Antimacchie. Dieci anni di ricerca scientifica. Per un ingrediente dall'efficacia rivoluzionaria. Agisce nel rispetto della pelle e riduce le macchie del 50% dopo otto settimane. Riscopri una pelle più uniforme con Nivea Luminos Antimacchie. Abbiamo una nuova energia. Nata per guidare il cambiamento. Così carica da accendere una rivoluzione. A zero emissioni. In sintonia con il mondo. È l'elettrico. Vivilo adesso. Gamma Electric e plug-in hybrid Peugeot. Zero rate per un anno. E un anno di ricariche illimitate. Spesso a 60 anni ci si sente affaticati. Perché si assorbe meno vitamina B12. Dall'esperienza Betotal, l'integratore con un livello elevato di vitamina B12. Per aiutarti a ridurre la stanchezza. Betotal Advance B12. Dai vita alla tua energia. Rieccoci qua. Riprendiamo la nostra conversazione con il ministro di istruzione Patrizio Bianchi. che stavamo dicendo della complessità. 10 milioni di persone. Lei sulla scrivania ha il libro di Riccardo Muti. E quindi anche lei dirige una grande orchestra che è quella della scuola. Vedi? E quindi anche lei in qualche modo è un direttore di un'orchestra. In questa orchestra per esempio lei ha stanziato, il suo ministero ha stanziato una cifra importante per i cosiddetti impianti di areazione che sono fondamentali per i contagi. Ma tutto questo senza alcun obbligo se ho ben capito. Poi sta la discrezionalità, l'autonomia degli istituti scolastici applicarle e quindi costruirli. Tra l'altro implica anche la competenza degli enti locali. Insomma alla fine fra il dire e il fare come sempre c'è tanto di mezzo. Sì, adesso parliamo degli impianti di areazione, dottor Fazio. Però mi faccia dire una cosa. Sono tutte cose in più queste. Certo. In più rispetto alla cosa necessaria che è la vaccinazione. Allora mi faccia dire due numeri perché sono importanti i numeri. Prego. La prima è i ragazzi fra i 12 e i 19 anni. Siamo arrivati all'84,95% dei ragazzi che hanno fatto la prima dose, la dose unica e sono guariti. E siamo al 75%. 75% di chi ha già completato la dose, tutte e due le dosi. I ragazzi più piccoli, i bambini, noi abbiamo avuto l'autorizzazione da Lema, che è l'ente europeo, a poter vaccinare i bambini alla fine di novembre. Ci siamo messi subito a vaccinare. E lei ricorda che la settimana scorsa eravamo al 12% e devo dire che questa settimana, una settimana, siamo al 25% dei bambini vaccinati. E le dà ancora una volta l'idea importante di quanto si può fare tutto, però si deve fare con le famiglie, con le persone, con i ragazzi, con i bambini. Cioè è la vaccinazione la vera difesa. Poi aggiungiamo tutto il resto. Assolutamente. Tra l'altro, a questo proposito al Ministro, gliel'avrei chiesto dopo, ma... Per fortuna i miei figli sono vaccinati con la terza dose tutti e due, quindi diciamo sono... anzi, invito tutti a farlo, proprio perché si vuole bene ai nostri figli, ai nostri ragazzi, e anche ai loro amici, ai loro compagni di classe e di scuola. Ma questo vaccino obbligatorio era proprio impensabile. Come ci sono gli altri vaccini obbligatori per andare alla scuola materna? Ma non si poteva immaginare questo vaccino obbligatorio per andare a scuola? Per la tutela di se stessi, degli altri, è una cosa che non viene spesso detta, ma insomma anche delle famiglie. Ci sono ragazzi con famiglie, con qualcuno fragile in famiglia, con qualcuno che va protetto. Insomma, non finisce tutto lì, non finisce tutto in quell'aula. Grazie, grazie molto di questa cosa. Sì, io ho sempre sostenuto che noi dobbiamo arrivare ad una cultura dei vaccini. Lei pensi ad esempio al vaiolo. Io mi ricordo quando ero bambino che eravamo tutti in fila con le braccia scoperte perché ci facevano il vaiolo. Non so, è molto peggiore ma non si ricorda. Abbiamo tutti il segno sull'avombraccio, certo. Se non avessimo fatto quello, noi non avremmo eradicato il vaiolo. E invece oggi i nostri figli, per fortuna, non sanno più neanche cos'è il vaiolo. Allora io credo che le cose che hai detto siano straordinariamente sagge. Io le sto ripetendo e le ripeto anche in consiglio. Bisogna arrivare per la tutela di tutti a fare questo. Ma per la tutela, e qui però voglio fare una considerazione anche rispetto alle cose che ho sentito prima rispetto al ricordo di Davide Sassoli, ci sono delle cose che vanno affrontate, dei momenti difficilissimi che vanno affrontati solo avendo grandi valori e parole di dolcezza. Ecco, una di queste è la parola vaccini. Non ci si può dividere sui vaccini. I vaccini sono una misura di solidarietà. Perché se non lo vuoi fare per te, lo devi fare per il tuo compagno di banco o anche per un compagno di banco che neanche conosci. Per questo va fatto. Quindi grazie su questa cosa. Adesso le rispondo... E adesso le rispondo sulla reazione. Guardi, io ci ho pensato molto, sa, però noi qua dobbiamo fare delle scelte nella nostra vita. Dobbiamo fare delle scelte come Paese. Noi abbiamo voluto che la nostra Repubblica fosse la Repubblica delle Autonomie. La Repubblica dell'Autonomia delle scuole, delle regioni, dei comuni. E alla fine, a cavallo dei due secoli, tra il Novecento e il Duemila, noi abbiamo optato per una Repubblica delle Autonomie. Dove in realtà all'interno del grande Paese Italia, perché il Paese è un grande Paese nostro, abbiamo optato per la responsabilità di ognuno. Ecco, allora stiamo misurando esattamente questo. Questo ci dà ovviamente delle situazioni anche diverse nel Paese. Però ci sono anche delle situazioni diverse da affrontare nel Paese. Se io sono in una scuola di inizio Novecento, ce ne sono tante ad esempio a Roma, dove ho i soffitti alti nove metri, probabilmente sono altre le scelte, ma il punto fondamentale è costituzionale, costituzionale, perché dietro ognuno di questi problemi c'è un pezzo della nostra Costituzione. E se noi vogliamo un Paese tutto governato dall'alto in basso, con una serie di leggi che mi descrivono passaggio per passaggio cosa devo fare, ogni comportamento scritto su una legge, come le grandi mappe che dovevano registrare ogni casa, ogni albero, ogni foglia, oppure se siamo in un Paese delle autonomie dove prevale la responsabilità di ognuno e la responsabilità anche di coloro che governano le loro autonomie. Allora, la reazione è un caso di questo. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo dato delle risorse sia agli enti locali che alle scuole perché potessero individuare lo strumento che in quella situazione specifica poteva essere quello più rispondente ai bisogni di tutti. E poi non abbiamo abbandonato nessuno perché siamo presentissimi, assistiamo sempre le nostre scuole, se ci sono dei problemi rispondiamo. Però ancora una volta, dobbiamo scegliere o il Ministro che da Roma decide cosa fare in un paesino della bassa o in una montagna, oppure un sistema che mette a disposizione delle risorse e ognuno si prende le proprie responsabilità. Ministro, nel frattempo mascherine FFP2, tema pratico anche quello, gratis per gli insegnanti e operatori, al momento però, se non sbaglio, sono a pagamento per i ragazzi. E soprattutto mascherine FFP2 per bambini, su questo c'è una questione importante perché pare che in realtà questa definizione non corrisponda a nulla, cioè non esistono FFP2 per bambini. è vero che non sono i bambini obbligati a portarle a scuola, però se un bambino va in autobus in teoria dovrebbe averla per andare sull'autobus. Questa è una pratica difficile. Sì, allora, innanzitutto, le mascherine FFP2 vengono dopo le mascherine chirurgiche che sono state date dal Commissario nella fase precedente. Dopodiché abbiamo fatto delle scelte perché il Governo fa delle scelte e ha deciso di dare le mascherine in ragione delle priorità. Quando si dice mascherine per tutti, una cosa per tutti, attenzione, c'è anche la realtà dei fatti, bisogna toccare la realtà quotidiana. Allora abbiamo fatto delle priorità e abbiamo dato le mascherine innanzitutto a coloro che lavorano nelle scuole dell'infanzia e nei nidi, dove i bambini non possono avere né la vaccinazione né le mascherine. L'abbiamo date a loro. Il Commissario Figliuolo ha già distribuito 800.000 mascherine. Perché? Perché bisogna partire da là dove ci sono più problemi e ne distribuirà altri 9.400.000 nei prossimi 10 giorni, 15 giorni. Rispetto ai ragazzi, beh, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di calmerare il prezzo delle mascherine a 0,75 centesimi. 0,75 centesimi, le ricordo, è metà di un cappuccino. Non prende neanche mezzo cappuccino al bar, prende solo il latte. Quindi attenzione che anche questa è una misura importante. Siamo in una pandemia difficile e stiamo di fatto operando facendo le priorità. Man mano che andiamo avanti, ma speriamo di non andare avanti molto con questa, ci dice il CTS che siamo già nella fase di appiattimento della curva e stiamo lavorando tutti per affrontare tutte le fasi di questa pandemia. Noi però abbiamo fatto delle scelte, abbiamo messo in sicurezza coloro che hanno presposti e progressivamente muoveremo in questo verso. È vero, Ministro, però che sa, una famiglia che ha due figli deve spendere 1,50 euro al giorno di mascherine. Se poi deve fare anche i tamponi, i tamponi per quanto calmerati sono tamponi, tra l'altro, credo, sopra i 12 anni, dai 12 ai 18 anni a 9 euro, credo, nelle farmacie e sotto i 12 anni invece costano di più. Anche lì c'è una curiosa incongruenza. Ma insomma, comunque l'impegno economico non è irrilevante per una famiglia... Io lo capisco perfettamente, dottor Fazio, lo capisco perfettamente. Le ho già detto che il generale Figliuolo, il commissario, interviene sui ragazzi dai 12 ai 19 anni in temi gratuiti, in modo da permettere poi alle aziende sanitarie di dedicarsi interamente ai bambini più piccoli, però ancora una volta accolgo la sua indicazione e me ne farò portatore. Ministro, ci sono due preoccupazioni che la riguardano. La prima è i supplenti. Esistono, c'è un problema di supplenze che lei sta verificando o invece si sente di rassicurare su questo tema laddove ci fossero appunto insegnanti positivi e la seconda cosa mi rendo conto che è un po' prematuro ma riguarda gli esami di maturità, cioè se lei ha già una indicazione su quello che accadrà. Allora, per quanto riguarda i supplenti, distinguiamo le due questioni. Il numero, il numero dei supplenti per sostituire il personale sospeso perché non hanno ritenuto di fare le vaccinazioni. Noi il 15 di dicembre abbiamo inoltrato la verifica di coloro che ritenevano di non vaccinarsi e sono i numeri che quindi abbiamo già consolidato perché riguardano coloro che sono stati a casa per più di quattro giorni senza giustificazione. Questi numeri sono quelli che abbiamo già dato la settimana scorsa e sono sostanzialmente intorno al 6% per quanto riguarda il personale docente e intorno al 5% per l'altro personale. Quindi tutto sommato questo è un numero di persone che sappiamo già e che, no scusa, il personale fra coloro che sono mancati e coloro che sono sono stati in quarantena e quindi sono numeri tutto sommato limitati. Complessivamente tenga conto che si tratta di numeri che tutto sommato ci ricordano che la totalità del personale presente a scuola è vaccinato e quindi tutto sommato per il resto il numero del personale che manca in questo momento secondo le nostre verifiche allo stato attuale corrisponde a quello dell'epoca. Noi abbiamo verificato sostanzialmente cosa succedeva prima della pandemia 17, 18, 19 e siamo nel mese di gennaio dove c'è il massimo e la punta della pandemia scusa il massimo della punta poi delle mancanze anche per malattie di personale e cose simili perché non è che poi siano scomparse queste quindi tutto sommato la situazione è sotto controllo non dimentichi che noi abbiamo dato 400 milioni per per il rinnovo dei contratti del cosiddetto personale di potenziamento e quindi in un qualche modo mi pare che tutto sommato siano presenti le rifaccio la considerazione di prima scusi perdoni sulla maturità glielo dico subito sulla maturità io come ho sempre detto lo daremo a fine gennaio però non si preoccupino i ragazzi i ragazzi continuano a studiare ci saranno delle verifiche di quello che hanno fatto ma saranno verifiche che garantiranno i loro studi e garantiranno come abbiamo sempre fatto la possibilità poi di non vigilare ma di valutare la valutazione è importante in un percorso ma non sarà né di carattere aggressivo né altro sarà una valutazione serena come la nostra scuola ha sempre fatto grazie signor Ministro noi l'aspettiamo per altre considerazioni sulla scuola ogni volta che vorrà come sai è un tema che per noi è centrale le auguriamo buon lavoro e grazie per aver risposto alle nostre domande ringrazio moltissimo credo che lei abbia anche una cosa da dire in conclusione una sua iniziativa dedicata ai presidi vero? un numero di telefono dedicato ai presidi sì ma sì ma guardi più che un numero di telefono guardi come abbiamo sempre detto noi siamo legatissimi ai nostri presidi e alle nostre scuole e abbiamo una piattaforma che permette ai nostri presidi di collegarsi continuamente e quindi una piattaforma che permette loro di sempre continuamente avere un rapporto con voi integrato dati dati istruzione e quindi i nostri presidi tramite la piattaforma possono collegarsi sempre però mi faccia dire l'ultima cosa me la permetta continuiamo a parlare di scuola però non dimentichiamo che parlare di scuola vuol dire parlare del nostro paese la scuola è lo specchio del paese e allora bisogna nella scuola riuscire a riflettere un paese che ritrovi la sua unità le grandi vicende come quelle che stiamo vivendo o dividono o uniscono e allora questo è il momento di unirsi non c'è dubbio grazie Ministro buona serata a lei davvero Filippa